Ciao a tutti amici di Film is Now! Si apriva nel 2015 una nuova saga, una nuova speranza che continuava nel 2017 con il suo secondo capitolo per arrivare finalmente al 18 dicembre 2019 per l'uscita dell'ultimo film e conclusione di questa saga che ha riacceso l'animo di tantissimi fan li ha fatti arrabbiare, li ha fatti scannare tra di loro con il regista, con i registi e sceneggiatori che ne hanno preso parte e che vede adesso la sua fine con Star Wars l'ascesa di Skywalker. Parliamo oggi nella nostra rubrica top of flop del film più atteso di questo dicembre di questo dicembre di grandi film di intrattenimento e di cui probabilmente Star Wars è il più grande di tutti il più grande di tutti tanto che ci ha portato con il magone fino a quest'ultima storia, a quest'ultima avventura che è totalmente collegata ovviamente con i suoi precedenti capitoli ma che allo stesso tempo sconvolge tutto cosa sconvolge? Non tanto l'inizio in cui noi conosciamo questa re conosciamo i nuovi personaggi e ci mettiamo in questa storia che tanti hanno detto molto simile al primo capitolo quello uscito nel 77 ovviamente senza fare numerazioni e cose varie quindi quando noi abbiamo conosciuto i nostri personaggi quando abbiamo conosciuto Luke, quando abbiamo conosciuto Ian Solo quando abbiamo conosciuto Leia tutti questi personaggi, tutti questi elementi che molto pubblico ma probabilmente era piuttosto palese hanno riscontrato, hanno rivisto nei personaggi di questa nuova saga ovviamente con le dovute differenze, con la dovuta differenza anche di peso tra i vari protagonisti per poi essere totalmente sconvolto, rigiostrato, rimaneggiato e capovolto in qualche maniera che era ciò che si voleva fare con il capitolo del 2017 e gli ultimi Jedi arriva Rian Johnson, lasciamo un po' da parte J.J. Abrams arriva Rian Johnson che fa vuole cambiare tutto questa cosa entusiasma tanti fan fa arrabbiare tantissimi altri appassionati e quindi che cosa succede? torna J.J. Abrams torna in qualche modo una sorta di rispettabilità sacrale verso una saga che accompagna da decadi ormai il grande pubblico e questo che cosa porta? ci porta a Star Wars l'ascesa di Skywalker di cui vi parleremo assolutamente senza spoiler non vi preoccupate in questo video che è un film assolutamente da vedere quindi un film top ma che cerca in qualche modo di accontentare tutti ora prima di approfondire l'argomento nel nostro video vi ricordo se non l'avete già fatto di iscrivervi al canale di Film is Now e di attivare la campanellina delle notifiche per ricevere sempre i nostri aggiornamenti e nuovi contenuti sul canale perché accontentiamo tutti? allora cosa succede? come stavo dicendo in precedenza il film che uscì due anni fa portò una grande dose di sconvolgimento non tanto perché si stava in qualche maniera profanando una sorta di fede in questa saga cosa che invece anche molti hanno ritrovato ma perché si cercava in qualche maniera di andare avanti di portare questa serie di film verso una rotta che è inevitabile perché è ovvio che tantissimi fan continuano a sentire e la sentiranno per sempre questa vicinanza con i classici personaggi della saga ma allo stesso tempo ciò che di intelligente c'era dietro gli ultimi geni era quello di voler proseguire nel grande rispetto dei capostipiti di star wars ma dirci ok adesso noi siamo una nuova generazione se ne dobbiamo combattere in qualche maniera i vecchi facendola proprio stretta stretta siamo la nuova leva, siamo la nuova speranza ribelliamoci contro ciò che ci è successo sia dal punto di vista del bene, della forza sia dal punto di vista del male e di tutto quello che si porta dietro e andiamo avanti tant'è che noi abbiamo questa chiusa finale con questo bambino che guarda all'orizzonte guarda al cielo una sorta di ulteriore nuova possibilità per gli Jedi, per la forza e per tutto ciò che ne deriva chi è contento, chi è entusiasta chi è scontento, chi non può tollerare ciò che Johnson proponeva per questa saga torna a J.J. Abrams e come era intuibile si torna a una sorta di pragmaticità della serie una sorta di pragmaticità del mito una sorta di riverenza che continua a prostrarsi verso quel tipo di racconto che perciò non riesce allo stesso tempo a compiere quella sorta di percorso che ci si era prestabiliti con gli ultimi Jedi ma che allo stesso tempo non può accantonarlo del tutto perché comunque sarebbe anche sciocco non riuscire a delineare alla fine un percorso per questa trilogia quindi si cerca di trovare questo percorso che viene proprio dalla somma quindi di quel primo capitolo che così tanto rimarcava la saga classica e di quel secondo che invece la voleva completamente stravolgere la somma di questi due film fa Star Wars l'ascesa di Skywalker intorno a cui ci interroghiamo ancora sul personaggio direi che ancora una volta incarna perfettamente quest'anima questa somma questo volere in qualche modo guardare a un futuro della saga ma allo stesso tempo non abbandonare mai le proprie radici tant'è che anche dal punto di vista del cattivo di ciò che riguarda in senso io adesso non voglio fare troppi spoiler anche se penso che chi sta guardando il video magari sa benissimo di chi sto parlando di chi sta tornando in questa nuova saga in cui anche qui si ripercorrono dei passi che un po' calano in originalità ma che per assurdo mantengono alto quel valore che ha sempre avuto la saga di Star Wars e proprio quegli elementi narrativi che noi già abbiamo trovato e che qui si reiterano una sorta di reiterazione che è tutta la sceneggiatura di l'ascesa di Skywalker proprio a livello di storia in sé per questo è molto avvincente da un certo punto di vista mentre dall'altro è un oddio ancora oddio ancora cioè nel senso proprio nella scrittura ci sono degli eventi che si ripetono con una sequenza piuttosto diciamo anche questa pedante non che sia un male soltanto una considerazione nel senso per quanto questo capitolo sia un riproporsi in continuazione per arrivare credo che il risultato ciò che si è veramente cercato è stato l'equilibrio tra ecco trovare l'equilibrio nella forza trovare l'equilibrio nella forza che ha significato trovare un bilanciamento tra tutti questi elementi e magari spegnere un pochino l'entusiasmo di chi era stato sconvolto e da chi era stato rapito da ciò che aveva fatto Rian Johnson e allo stesso tempo riacquistare la fiducia di quei fan duri e puri che non potevano sopportare tante cose che sono successe durante questa saga questa nuova trilogia quindi un incontro incontrarsi nel mezzo in cui ci si interroga ancora su chi è Rey da dove viene Rey e questo interrogarsi sulla natura di Rey è quasi una domanda che si può ampliare all'intera all'intera pellicola cioè che pellicola è questa nuova di Star Wars dove stava andando questa nuova questa nuova trilogia che cosa è diventato che cosa è diventata da dove veniva qual è la sua origine e quale sarà il suo scopo quindi sì ci ritroviamo con questo confronto tra icone tra questi nuovi personaggi che forse non hanno mai avuto la vera presa di quelli originali non sono mai riusciti veramente a sostituirli non che abbiano mai voluto farlo però credo sia ovvio che sia chi ha scritto questi personaggi poi chi li ha diretti chi li ha visti crescere e svilupparsi avrebbe preferito avrebbe voluto una sorta di esaltazione anche di questo animo l'unico che tra tutti veramente racchiude un po' questo dramma e questa questa epicità è Kylo Ren che tutti odiavano nel primo capitolo che altri quasi tutti hanno iniziato a amare che nel secondo e che qui viene un po' rilegato in qualche maniera con Nathan Diver che ti passa dall'uomo padre divorziato di Marriage Story e in un secondo e un secondo dopo ti passa da questo in qualche modo ragazzino ma non nel valore negativo però in questo ragazzino tormentato tutti questi problemi con madri padri forza e cattivo e tutto quanto e che è incredibile è un po' un poser nel senso Kylo Ren quando arriva gli piace un po' posare ma anche a noi ci piace molto guardarlo ci piace molto soprattutto nelle scene con Rey in cui ricontinua questo collegamento tra di loro che li porterà fino alle dovute conseguenze e li porterà una sorta di collegamento sempre più forte tanto da interagire da poter ormai creare una sorta di loro mondo in cui poter anche sfidarsi nonostante la lontananza questa è un'intuizione molto bella dal punto di vista anche visivo perché c'è una scena particolare in cui c'è un esterno e un interno e riescono a maneggiarlo a creare un unico spazio dove loro possono sfidarsi e effettivamente le scene con le loro sfide i loro duelli con le spade laser sono i momenti più esaltanti del film che poi dal punto di vista della regia di D.J. Abrams ha fatto un grande lavoro è molto bella è semplice ma allo stesso tempo riesce a racchiudere una sorta di maestosità che viene soprattutto dall'ambientazione dai set e da anche la scenografia bellissimi alcuni campi lunghi alcuni alcuni veramente alcuni posti alcuni ambienti alcune location che ti lasciano assolutamente assolutamente senza fiato su questo qualcosa di ineccepibile nulla da dire quindi sì cioè la forza scorre potente scorre potente in che modo scorre potente nel modo in cui vuole un po' mettere d'accordo tutti in cui si riesce comunque a raggiungere questa sorta di epicità che però è stata una è stato un incontrarsi di di compromessi e che ci porta a Star Wars l'ascesa di Skywalker di cui noi vi parliamo anche sul sito di cinematograph.it con tantissimi articoli ma di cui io voglio soprattutto parlare con voi nei commenti qui sotto fatemi sapere quanto lo state aspettando fatemi sapere se avete odiato o se avete amato gli ultimi Jedi fatemi sapere quanto riuscite a trovare la connessione tra queste due pellicole di se aveste voluto anche voi qualcosa di diverso probabilmente parlando poi puramente per un gusto personale mi sarebbe piaciuto riuscire a stravolgere completamente la cosa mi piaceva quel concetto di lasciamo perdere lasciamo perdere i vecchi e riusciamo a mettere questa nuova gioventù sulla retta via facciamolo insieme continua a esserci questo gesto della mano di Kylo Ren nei confronti di Rey avrei preferito ma riesco a capire qual è stata l'idea dietro questo nuovo capitolo e riesco e penso che tanti riusciranno a capirla e a comprenderla magari a non avere quella sorta di wow che cosa è successo ma di avere quel wow ho visto una grande comunque conclusione per una trilogia che avrebbe potuto spingersi un po' di più ma che mi rifà vivere e qua non posso dire altro sensazioni e momenti mi fa rivivere dei ricordi mi fa rivivere la memoria e quindi posso essere contento anche così quindi fatemelo sapere rimanete soprattutto ripeto collegati con Cinematografo per articoli e approfondimenti per editoriali già c'è la recensione andate a leggere la recensione noi ci vediamo per il prossimo video aspetto i vostri commenti e che la forza sia con tutti voi ciao musica